Pace non significa tradimento. La pace richiede la giustizia e la sicurezza. Non ci può essere una pace ingiusta, premessa di altri conflitti. C'è un aggressore e un aggredito. Serve una pace sicura per il futuro. Lo ha detto il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, aprendo i lavori del Meeting di Rimini. Parlando sul tema Fratelli Tutti, testimonianza di un'amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco, il Cardinale ha ribadito che la sicurezza richiede sempre il coinvolgimento di tutti. Se vuoi la pace, prepara la pace. E questo è il grande impegno che dobbiamo cercare con responsabilità. Ripercorrendo poi le tappe della sua missione di pace, il Presidente della CEI ha concluso, vivo con la consapevolezza di quanta gente prega per la pace. Mi dà una responsabilità in più, ma anche il senso di una grande invocazione che ci spinge a trovare la via della pace. Immaginare un mondo senza guerre non è un'ingenuità. Il dialogo non è accettare una pace ingiusta. 12 Porte vi propone uno stralcio dell'intervento del Cardinale all'apertura del Meeting 2023. L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile. Eminenza, quattro testimonianze che documentano come è possibile costruire l'amicizia sociale, la fratellanza nei luoghi difficili, per mille motivi, per il disagio sociale, per le mancanze di coesione sociale, per anche mancanze di un sostegno generale, politico. Un suo commento. Tanto già ho l'agenda per l'anno prossimo. Dunque, io sono molto contento, devo dire ovviamente, anche di queste bellissime testimonianze. Cioè, credo che appunto poi ognuno potrebbe portare tanto perché l'amicizia non è così. Nella Fratelli Tutti, Papa Francesco, direbbe l'intimismo, gli intimismi egoistici, no? Cioè, tutto per il nutrimento del proprio io. Il problema è che sto bene io. Questo è il discorso. L'amicizia operativa è io sto bene se faccio star bene. Io sto bene se cambio le cose. Perché poi l'amicizia è per forza operativa, proprio perché non è intimismo egoistico. La seconda cosa, c'è tanta gioia nelle cose che abbiamo ascoltato. Cioè, c'è tanta vita, tanta passione. Allunga la vita, perché insomma, qualcuno mi sembra che sta sul pezzo da un po' di anni. E mi sembra che oltretutto non ci hanno nessuna intenzione di... Cioè, mi sembra che ci abbiano ancora parecchia voglia, parecchia birra, parecchio desiderio di fare tante altre cose. E questo ne sono veramente convinto che l'amicizia sociale, questa espressione che regola un po' la Fratelli Tutti, che libera da quel discorso dell'intimismo egoistico, che c'ha tutti i sacerdoti, eh. E perché, mica ci siamo soltanto noi, ci sono tanti sacerdoti dell'intimismo egoistico. Che spesso, devo dire, stanno molto più a sentire di quelli, appunto, diciamo così, della Chiesa. E credo che la bellezza anche delle cose che abbiamo ascoltato, di questa amicizia sociale che ci apre alla vita, che cambia la storia, che fa incontrare tanti, che cambia la vita anche forse soltanto di uno. Anche soltanto di un ragazzo che trova se stesso, che trova la propria dignità, il proprio valore. È una delle cose più importanti della Fratelli Tutti. Il valore di ognuno, che richiede anche una grande passione, che richiede tanta paternità. Perché prima si domandava qua, i preti cominciano, dico, vero, un po', così, qualche altro a scarseggiare. Io mi auguro che non scarseggiano i padri, però. Questo è il noto. Cioè, se non ci sono i preti quelli famosi per chiacchierare, diciamo così, dell'epoca, nemmeno uno in più, no? Ma che ci siano tanti che vivono questa amicizia, aiutando con la paternità, con un'amicizia vera, come avete detto voi. Le altre cose, rapidamente, che mi sono venute in mente, uno è cominciare da regina. Beh, i beni sono comuni, eh. C'è una cosa che ha fatto arrabbiare qualcuno della Fratelli Tutti, che è sulla proprietà privata. Che invece, a me dispiace, ma è dall'inizio. Cioè, quello, il talento è tuo, è tuo. Però quel talento, se non lo usi per gli altri, lo perdi. E il discorso anche dei beni che servono, se servono agli altri, se servono per tutti. Guardate, al contrario, nell'individualismo imperante con cui, così, diciamo, pensiamo di trovare tante felicità individuali, e non le troviamo, perdiamo anche i nostri beni. Perché, come giustamente diceva la regina, è spendendoli per gli altri, è utilizzandoli per gli altri che, appunto, trovo quel bene comune che è anche il mio. Per cui non è che ci rimetto, eh. Per certi versi trovo il cento volte tanto. L'altro discorso, vi faccio proprio sottolineature rapidissime di Alberto, il discorso della periferia vicina. L'amicizia sociale ci accende il mondo intorno, altrimenti proprio tutto grigio, non ricevuto. Al contrario, la periferia non è soltanto geografica. Papa Francesco non ha mai detto, è anche geografica, ma è anche la periferia del vicino di casa, di quello che io incontro o che evito, appunto, perché guardo tutto senza amicizia. E una parola chiave che Alberto ha utilizzato è quella della gratuità. E l'amicizia è gratuita. Quando ci presentiamo col conto, insomma, signori, vuol dire che ce n'è rimasta molto a poca. Oppure che non è l'amicizia, è l'interesse nel senso lo faccio perché mi conviene. E credo che questo, guardate, è una delle cose, diciamo, più nostre. Perché davvero è dal Vangelo che nasce la gratuità, che vuol dire tante cose. Non è soltanto non avere interesse, non avere riscontro, farlo è basta, no? Quindi è anche più forte della disillusione, più forte del fatto, ma io voglio vedere il risultato. Perché ci sarà il risultato, no? La gratuità significa anche questo, no? E non un'idea nostra dell'altro. Mentre dice che molte volte gli altri devono essere quelli che pensiamo noi. No, diciamo così, l'amicizia è l'amico di quell'altro, anche è antipatico con me. Anche che faccio una grande fatica a trovare quello che ci unisce, appunto, non l'amicizia dell'altro, no? Ecco, quindi questo discorso della... Io oggi ho voluto citare, che era bellissimo, di Giussani, bisogna abolire l'estraneità. E ho detto, e lo ripeto, che questa abolizione è valida tuttora. Cioè, non è chiaro, adesso no, però facciamo soltanto alcune, oppure la discipliniamo un po'. Abolire l'estraneità vuol dire che niente è estraneo, che tutto mi interessa. E questo è bellissimo. E appunto, poi, ne vediamo l'operatività, appunto, in quei pezzi di mondo diversissimi, anche a volte faticosamente messi insieme, dalle vostre esperienze che abbiamo appena finito di ascoltare. Ecco, e quindi l'educazione, che non è quindi soltanto l'istruzione, è un corso un po' ovvio, ma ricordiamocelo sempre. Io non ti debbo soltanto fornire un po' di nozioni se non c'è la educazione, che è aiutarti a essere profondamente te stesso. Il valore, il merito, questo sì che è davvero il vero merito di cui dobbiamo, diciamo, dannarci, finché non lo si trova. Cioè, dannarci nel senso, ovviamente, buono del termine, cioè di non darci pace finché... Perché c'è in ognuno. Eh, ma c'è bisogno di qualcuno che te lo tiri fuori, appunto, l'educatore. Ecco. E poi l'ultima cosa, il discorso di Vittorio, nessuno scartato, liberarci dalla prestazione. Guardate, è importantissimo nel... che poi significa, a mio parere, divertirsi di più e, a mio parere, anche diventare ancora migliori. Perché ci sono, nell'ansia di prestazione, a tutti i livelli, a cominciare anche dalla mia categoria, pericolosissimi. Perché poi, c'era nella mostra che ho visto prima una cosa bellissima, la bellezza non è la perfezione. Guardate, è molto intelligente. E purtroppo ci abbiamo qualche volta, anche, diciamo così, poi per di più, anche per motivi commerciali, di tante immagini pornografiche. Perché questa è veramente una pornografia, a parte quella tecnica, dico vero, in cui proprio... Ecco. Ma la pornografia di immagini, di stereotipi, di un immaginario fasullo. Solo che poi crea delle... delle sofferenze terribili. Per cui mi sembrava davvero molto importante questo discorso del liberare. Per cui non è nessuno scartato. E' molto giusto, no? E poi quella domanda... Oh, ma perché farlo per quelli che non sono nostri? Purtroppo, qualcuno lo fa apertamente, forse in maniera un po' sfacciata, qualche volta anche quasi ingenua, no? Ecco, molti se la fanno e non lo dicono. Molti stanno solo con i nostri. Peccato che a noi, il nostro Signore ci ha inguagliato. Perché i nostri sono tutti. Perché non c'è nessuno che non sia nostro. E la nostra amicizia, come abbiamo ascoltato, appunto, non c'ha frontiere. E poi, chi è che parla prima dell'essere, dello struggimento? Tu, ecco. Oh, dobbiamo avere un po' di struggimento. Ci libera anche da tante penose lamentele che facciamo. Ah, il sugo oggi proprio è venuto male. Mannaggia, oggi proprio la fettina non è quella di ieri. Cioè, il vittimismo è proprio una roba... Dovremmo vergognarci proprio da benessere, diciamo così, per cui finiamo per parlare soltanto di cose inutili molte volte. Allora, lo struggimento ci riempie di passione, di attenzione. Per i fratelli più piccoli di Gesù ci libera da tanta inutilità nostra e ci riempie di significato, di senso. Cioè, loro quattro sono contentoni. Questo è il problema. Non dice, mannaggia, ma chi me lo fa fare? Ma quelli lì, eccetera, eccetera. Penso che hanno trovato il desiderio anche della loro vita. L'ultima cosa, finisco perché sennò oggi è San Bernardo. Lo dico perché se qualcuno se l'era dimenticato, oggi è San Bernardo. Secondo alcuni l'ha fatta apposta. In ogni caso glielo facciamo volentieri gli auguri. Ecco. Ecco, l'ultima cosa, appunto, l'accoglienza. E perché? Per il bene degli altri. Sì, penso che le scuole professionali, anzitutto penso personalmente, sono davvero proprio gli scarti che ritrovano il valore, la bellezza. Cioè, ascoltare alcune delle loro storie dimostra quanto, diciamo, è una sfida enorme perché siano davvero delle scuole, delle formazioni di serie A, non di serie B. Tutt'altro. E quell'urlo, ecco, finisco con questo, perché Dario ha parlato molto dell'urlo, dell'urlo che dà fastidio, qualche volta è ma guarda che è ignorante, oppure, diciamo, stigmatizziamo l'urlo, no? Siccome il moralismo è molto inagguato, tutti, abbiamo il nostro, ma ci sono certi moralismi laici che francamente sono molto preoccupanti, perché invece, cos'è che racconta Dario dell'amicizia, in cui io cerco di capire quell'urlo, cerco di, senza paternalismo, ha detto, ma con paternità, che è un'altra cosa, siccome il paternalismo è molto facile, anzi, ci fa sentire anche qualcuno, gli diciamo tutto, ma non lo aiutiamo, non rispondiamo appunto all'urlo, che è dire, io valgo, aiutami a capire il mio valore, no? E' questo. Beh, è il miglior commento, può essere uno dei commenti al Vangelo di oggi. Anche la cananea gridava, urlava, con insistenza, qualche volta anche i ragazzi, in qualche modo, con tanta insistenza, però se troviamo la risposta, ecco, si compie il loro desiderio, e in fondo anche il desiderio di Gesù, cioè che ognuno trovi se stesso. Grazie di questa amicizia operativa. Io penso che possiamo dire che queste amicizie di cui ho sentito parlare sono in un certo senso profezia della pace, perché è difficile immaginare una pace senza persone che hanno fatto le esperienze di cui abbiamo adesso parlato. Per avviarmi alla domanda che poi le voglio porre, citiamo anche qua un brano dell'enciclica che dice Benché la Chiesa rispetti l'autonomia della politica, non renega la propria missione nell'ambito del privato, al contrario, non può, non deve neanche restare ai margini nella costruzione di un mondo migliore, né trascurare, di risvegliare le forze spirituali che possono fecondare tutta la vita sociale. La Chiesa ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di assistenza e di educazione, ma si adopera per la promozione dell'uomo e della fraternità universale. Io penso che questo sia anche lo spirito della missione che lei è stata affidata da Papa Francesco per avviare dialogo di pace in tutti i viaggi che lei ha fatto e la mia domanda è con quale speranze, con quale preoccupazioni vive questa sua missione affidato dal Santo Padre? Dunque, una piccolissima cosa non è per non rispondere, c'è sempre un riflesso scolastico in ognuno di noi, almeno in me, per cui quando uno di me così allarga, però penso che quello che abbiamo ascoltato anche prima dell'amicizia sociale è costruzione di pace, è veramente liberare da tanta rabbia, da tanto odio, da tanto individualismo ed è costruzione di pace. Per questo credo che questo discorso dell'amicizia sociale che nella Fratelli Tutti, che è una grande visione di pace, penso siamo all'inizio, o meglio raccoglie tanti sogni della generazione che ci ha preceduto e che ci ha consegnato dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale il desiderio, gli strumenti anche per un mondo di pace, i valori di questo, no? Mi sembra che Francesco ce la rilanci con un grande coinvolgimento di tutti e anche con il senso che non c'è, altrimenti non c'è futuro. Quindi l'ha laudato sì per la casa comune, perché altrimenti non c'è più l'uomo perché non ce la fa più a vivere, e questa casa, che però non è una casa di estranei o di soci, di diversi gruppi, di diverse etnie, ma fratelli tutti. Ecco, riprenderei il termine dello struggimento. Cioè, Papa Francesco ci chiede di non abituarci alla guerra. A me, penso, credo che a tanti, ha commosso la commozione di Papa Francesco l'8 dicembre a Piazza di Spagna, l'Immacolata tradizionalmente, quando con tutto lo struggimento di far proprio il dolore del popolo ucraino, della sofferenza del popolo ucraino colpito dalla guerra. Vi ricordate quando non riusciva più ad andare avanti? Dobbiamo continuare a avere quello stesso struggimento. Perché ogni giorno che passa tante persone che muoiono, è un odio che diventa ancora più profondo, è un inquinamento che diventa ancora più insopportabile in tutto l'ambiente. Perché poi non è mai soltanto davvero una guerra mondiale, lo capiamo anche, diciamo, l'ha sempre detto sempre sui vari pezzi, in questo caso direi che si manifesta in maniera evidente il rischio che sia anche, che appaia proprio una guerra mondiale, che già coinvolge tanti. La missione nasce da questo. Non c'è, diciamo, il piano così, qualche volta, forse anche per un'attesa, qualche volta, così anche con, invece, come dire, vogliamo vedere allora, vediamo un po' quanto sono bravi. Povero Papa Francesco, ci insegna tantissimo a struggerci per la pace, a non cercare tutti quanti i modi. Era questo. Spingere, trovare quello che può essere utile, ascoltare, manifestare la vicinanza, vedere gli spazi che possono favorire la composizione. Una piccolissima cosa su questo, pace non significa tradimento. Mi spiego. La pace richiede la giustizia e richiede la sicurezza. Cioè, non ci può essere una pace ingiusta, anche perché sarebbe la premessa per una continuazione dei conflitti, no? Deve essere una pace giusta. E non dimentichiamo, ovviamente, che c'è un aggressore e c'è un aggredito. E deve essere una pace sicura, che possa permettere alle persone di guardare con speranza al futuro. Poi, certamente, la sicurezza richiede sempre il coinvolgimento di tutti, no? Mai dire, dare per scontato. Davvero, se vuoi la pace, prepara la pace. E questo è il grande impegno che dobbiamo, con consapevolezza e con responsabilità, cercare. C'è questo, l'attenzione, soprattutto, per la parte umanitaria, quindi, i bambini che, ucraini che sono in Russia, provare a capire che cosa si può fare e quindi anche il ritorno di chi deve ritornare nelle proprie famiglie, nelle proprie case, no? Di sicuro, questo, diciamo, i frutti. La pace è una cosa, purtroppo, la guerra lacera con profondità e qualche volta con rapidità, ma la guerra è sempre una preparazione, c'è sempre un terreno di cultura, c'è sempre una gestazione, non dobbiamo mai dimenticare. sicuramente questo ci richiede, richiederà anche la capacità di mettere insieme tanti soggetti che possano spingere per trovare la pace. personalmente, la tua domanda, Bernard, era come vivo questo, lo vivo con, diciamo così, con una grande consapevolezza di quanta gente prega per la pace. E devo dire che questo mi dà una percettività di una responsabilità ancora di più e ci dà tutti noi, perché poi credo che c'è una responsabilità che ci coinvolge tutti quanti, ma anche davvero il senso di una grande invocazione che ci spinge, ci deve spingere, ci spingerà anche nelle settimane prossime, nei mesi prossimi, se serve, a trovare la via della pace, a rispondere a quel vero desiderio di tutti che è quello di liberarci della violenza e di fare tesoro di questa pandemia perché finalmente si possa combattere la guerra e si possa immaginare un mondo senza guerra, non è un'ingenuità, invece ma come con quello che succede anzi con la tentazione del riarmo, ma a maggior ragione come nella pandemia del covid dobbiamo far tesoro, dobbiamo anche saper far tesoro di questo e cercare tutti gli strumenti che possano comporre i conflitti perché il dialogo non è tradire le ragioni, non è accettare una pace ingiusta, trovare una pace giusta e sicura ma non con le armi ma con il dialogo e questo credo che sia davvero indispensabile per questa tragica guerra in Ucraina e in tutti quanti tanti pezzi della guerra mondiale. Grazie, grazie a Mimenta. Grazie.